Allora, si lancia oggi il suo S.O.S.S.S.O. Io, dottoressa. Che problema credi di avere? Il mio problema è che io non riesco a fare sesso se non con donne più grandi di me. Io ci ho provato con le ragazze della mia età, ma non mi eccitano. Certo. Mentre le donne grandi mi eccitano. E come se mi eccitano? Anche troppo. Io perdo letteralmente la testa, come con la mia ultima fiamma, a scaltarla. Caro, non ti devi preoccupare perché il desiderio è un po' come il mare, senza fine, senza confini. E non devi farmi un dramma. Io non ne faccio un dramma, ma il mio problema, ecco, è piuttosto grosso. Grosso? Sì, forse è meglio che lo faccio spiegare da Chantal. Chantal, amore mio, Chantal, vieni, entra. Ma veramente? Ma tu fai schifo. Ma fai veramente schifo. Ma tu sei un pervertito. Ma tu fai schifo. Ma come fai ad approfittarti di questa povera vecchia? Povera vecchia, povera vecchia. Povera vecchia sarà lei. E' lui, è lui che si accetta troppo e viene subito, eh? Non ci sarebbe un rimedio, eh? Una pillola. Dei preservativi ritardanti, eh? Ecco. Eh? Chantal è così. Parla schietto. 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 Parla schietto.